Ciao a tutti voi! Ciao a tutti voi! Oggi facciamo un dolce velocissimo e non ce ne parliamo più! Per me voi state la ricetta più bella di tutta la mia vita! Le palline di cocco e ricotta. Versiamo tutto qua dentro. Lascia la ricetta più bella come fa. La ricetta più bella. Non è vero come no. ecco l'aiuto ecco l'aiuto a bet da da che male eh lo so la gioca la metterà con la mano no l'hai messo tutto tu ok mettilo così abbiamo ottenuto uno cocco sano e uno bianco iniziamo a fare le palline e poi le mettete nella pallina di cocco via le mettiamo la pallina adesso facciamo la stessa cosa a cacao ed ecco le nostre belle palline andiamo andiamo ci si può assaggiare assaggiare vediamo buona 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 buona